GF VIP 7, i provvedimenti legali presi dalla famiglia di Antonella Fiordelisi saltare l'ingresso di Gianluca Benincasa, lui racconta la sua verità sui social. Nei giorni scorsi si era parlato dell'imminente ingresso nella casa del grande fratello VIP di Gianluca Benincasa. Ex fidanzato di Antonella Fiordelisi l'uomo avrebbe dovuto varcare la porta rossa in qualità di ospite insieme ad altri due ex di Vipponi in gioco, ovvero Ivana Mrazova e Matteo Diamante. Tuttavia, stando ad alcune voci vicine alla famiglia Fiordelisi, sembrerebbe che la sua partecipazione sia saltata per via dei provvedimenti legali presi dalla famiglia dell'influencer. Poche ore fa, Gianluca ha pubblicato sul suo profilo Instagram le prove della sua relazione con Antonella Fiordelisi e con la famiglia di lei. L'uomo in una serie di storie ha voluto raccontare la sua verità. Nel frattempo, in merito a quanto pubblicato ieri, circa un suo commento al vetriolo contro il padre di Antonella Fiordelisi. Benincasa ha pubblicato una storia spiegando di aver perso il cellulare. Bineincasa ha pubblicato una storia spiegando di avermi mai sus mai sus mai sus mai sus mai sus bineincasa